Ciao a tutti, sono Stefano Rossetti, sono un atleta del basket in carrozzina e ancora giocatore, ma da poco tempo anche allenatore della squadra di giovani e tenaci. Io ho iniziato a giocare nel 1992 dopo aver subito un incidente di moto. Dal 1992 fino al 2016 sono stato un giocatore della Serie A del Santa Lucia e grazie anche alla fondazione e a tutto quello che mi è stato messo a disposizione, ho fatto anche per venti anni parte della Nazionale Italiana. Il mio rapporto con i ragazzi è un rapporto soprattutto di sincerità. Io tratto tutti i ragazzi nello stesso modo dal primo all'ultimo, io rispetto loro e loro rispettano me perché quando io sto sul campo mi piace essere trattato da atleta e questa cosa la sto trasmettendo piano piano ai miei ragazzi perché loro sono degli atleti, quando loro sono in campo sono degli atleti e io per tale li rispetto e per tale li tratto. perché qualsiasi sport ti permette di crescere sia come persona ma soprattutto viaggiare sempre a testa alta e capire e farti capire di più cos'è il sacrificio. Io non sono certo un allenatore papà, per me l'allenatore deve avere una sua mentalità, la mia mentalità è del bastone e carota ma sono fiero di questo e i miei ragazzi sicuramente come tutte le persone quando vengono riprese in quel momento in quel frangente mi odieranno pure, ma poi loro vedono che nello stesso tempo quando fanno le cose fatte bene vengono gratificati e penso che mi vogliono anche un pochettino di bene. Ho quattro cinque ragazzi che fanno parte della nazionale under 21 dei maschi e una ragazza che fa parte della nazionale femminile sicuramente il loro coinvolgimento eppure grazie al mio famoso bastone e carota. Il gioco è uguale, la differenza poi a livello tecnico è che per noi sono fondamentali i blocchi, la differenza sostanziale è che noi abbiamo una carrozzina e chi sta in piedi non ce l'ha, i canestri sono alti o uguali a 3 metri 0,5 metri, il campo è uguale, tutte le linee di delimitazione del campo e interne al campo sono identiche. I sport paralimpici hanno avuto un'evoluzione grandissima dal 1992 ad oggi. Mi ricordo che quando ho iniziato io c'erano dei piccoli articoli che parlavano sui giornali, le televisioni non parlavano quasi mai se non che solo le televisioni private e sicuramente c'è stata un'evoluzione. Quando mi è stato proposto nel 1992 di iniziare a fare basket in carrozzina ero un attimino perplesso perché io non ero capace né andare in carrozzina né a giocare a basket perché ho sempre giocato con i piedi e con le mani. Ho trovato della gente e dei compagni che poi si sono manifestati, i compagni di squadra che mi hanno aiutato su questo. Noi come giovani e tenaci facciamo un lavoro specifico andando anche nelle scuole e di conseguenza coinvolgere anche i ragazzi. Quando ho iniziato io questo non veniva fatto anche perché se adesso ci sono qualche scuola che gli permette di fare un po' di attività anche in carrozzina prima era assolutamente vietato. Noi siamo molto fortunati perché grazie alla Fondazione Santa Lucia noi siamo qui e possiamo fare le nostre attività.